5 pastori sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di vittoria perché sorpresi mentre facevano pascolare abusivamente circa 500 capi all'interno di un appezzamento di terreno privato. 4 medici dell'ospedale Maria Paterno Arezzo di Ragusa indagati per omicidio colposo. La vicenda si riferisce alla morte di un uomo di 65 anni, Luigi Annino, dimesso dopo un intervento. Nuovi sbarchi di migranti sulle coste orientali della Sicilia, in particolare a Pozzalla, Augusto e Catania. In totale sono stati soccorsi 1135 profughi salvati in ben 10 diverse operazioni di soccorso. Sopraluogo a scoglitti ieri per il sindaco di Vittoria Giovanni Moscato, il primo cittadino ha verificato le condizioni della frazione disponendo in media di interventi di pulizia straordinaria. Il presidente del Consiglio Comunale Salvatore di Falco ha firmato oggi l'ultimo atto della passata amministrazione, si tratta della convocazione del nuovo Consiglio votato il 5 giugno scorso. Un saluto e bentrovati all'appuntamento con la nostra informazione dunque in apertura alla pagina di Cronaca con 5 pastori denunciati dai carabinieri della Compagnia di Vittoria perché sorpresi mentre facevano pascolare abusivamente circa 500 capi tra ovini e bovini all'interno di un appezzamento di terreno privato danneggiandolo. Sentiamo. I carabinieri della Compagnia di Vittoria nell'ambito di attività finalizzata al contrasto del pascolo abusivo e dell'abbandono di ovini e bovini hanno deferito in stato di libertà 5 persone. Si tratta di un 55enne ed un 56enne, entrambi vittoriesi e con precedenti penali, e di un 24enne, un 22enne e un 28enne, questi ultimi 3 incensurati originari della Romania. In particolare, grazie ai mirati controlli nel territorio della frazione marittima di Scoglitti, i militari della locale stazione hanno sorpreso in più occasione i 5 denunciati mentre facevano pascolare abusivamente circa 500 capi tra ovini e bovini all'interno di un appezzamento coltivato da grumi e riconducibile ad un'azienda agricola di contrada buffa Castelluccio causando danneggiamenti alle colture e a tutta la recensione che delimitava l'area. Grazie all'immediato intervento dei carabinieri la situazione è subito rientrata nella normalità. Il danno al recato è ancora in fase di quantificazione ma non risulta coperto da assicurazione. Al termine dell'attività investigative i 5 uomini, tutti di professione pastore, sono stati così denunciati a piede libera alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per danneggiamento aggravato, pascolo abusivo e invasione di terreni, il tutto commesso in concorso tra loro. Il problema del pascolo abusivo e soprattutto dei conseguenti danni alle colture e alle foreste demaniali che gli animali provocano è fortemente avvertito dai cittadini della zona e comporta, specie per quello che riguarda i bovini, anche evidenti pericoli connessi ai sinistri stradali. In tal senso, l'attività preventiva e repressiva dell'arma proseguirà, anche nei prossimi giorni, con mirati servizi in tutto il territorio e parino, come già fatto nei mesi scorsi e nello specifico ad Acate, quando i carabinieri della locale stazione avevano sorpreso due uomini poi denunciati, mentre facevano pascolare abusivamente circa 50 capi di ovini all'interno di un'azienda agricola di Contrada Bosco Rinelli, causando ingenti danni alle colture e al foraggio. Quattro medici dell'ospedale Maria Paterno Arezzo di Ragusa sono indagati per omicidio colposo. La vicenda si riferisce alla morte di un uomo di 65 anni, Luigi Annino, dimesso dopo un intervento chirurgico. Il giorno dopo, però, l'uomo è stato colto da un infarto ed è morto. La morte di Luigi Annino, 65 anni, originario di Roma ma residente a Modica e al centro di una odissea in tre ospedali siciliani, ha portato in queste ore ad un'interessante novità. Quattro medici dell'ospedale Maria Paterno Arezzo di Ragusa sono infatti indagati per questa morte. La procura, dopo la denuncia dei familiari, ha disposto all'autopsia e sui medici grava l'accusa di omicidio colposo. La vicenda parte da Catane, dove il paziente aveva subito un delicato intervento chirurgico, quindi era stato trasferito all'ospedale Maggiore di Modica in quanto, dopo essere stato dimesso dall'ospedale Etneo, aveva accusato un malore. A Modica vi resta però poco perché venne trasferita a Ragusa per un accertamento clinico. Dal nosocomio Ibleo fanno presente che l'uomo avrebbe voluto rinviare questo accertamento in quanto ancora sofferente per l'intervento a Catania. Era stato quindi dimesso ma, tornato a casa, il giorno dopo viene colpito da un infarto. Arriva il 118 ma purtroppo non c'è più nulla da fare. Da qui la denuncia dei familiari alla procura. Familiari che faranno poi affiggere sui muri il famoso singolare manifesto funebre dove sottolineano che il funerale del loro congiunto si svolgeranno a data da destinarsi. Attivata ieri all'ospedale Maggiore di Modica la culla termica a donarla alla bontà degli italiani commossi dal gesto del piccolo Giovanni Ignaccolo. Morto a soli 7 anni, il bambino come si ricorderà aveva lasciato i suoi risparmi al reparto di pediatria per aiutare i bambini che ne hanno bisogno. Ai suoi 1000 euro se ne sono aggiunti altri 14.000. Arrestato dai carabinieri della Compagnia di Vittoria un trentenne migrante è stato arrestato in esecuzione di un ordine per la carcerazione. È stato infatti giudicato colpevole di alcuni furti commessi nelle aree rurali di Comiso. Prosegue a ritmi serrati l'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Vittoria nell'ambito dei servizi straordinari di controllo predisposti dal comandante provinciale di Ragusa al fine di reprimere ogni tipologia di reato specie quelli connessi con lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani e quelli predatori. L'intenso lavoro in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ibleo ha consentito di trarre in arresto in ottemperanza l'ordine di esecuzione per la carcerazione il trentenne Daniel Grosu. Il provvedimento che scaturisce dall'attività investigativa condotta dai militari di Comiso a seguito di alcuni furti perpetrati nelle aree rurali e in particolar modo nelle frazioni di Pedalino e Roccazzo impone al giovane di scontare tre mesi di reclusione. Inizialmente il ragazzo era stato cercato nel suo paese d'origine poi l'attività investigativa, confortata anche da alcuni spunti informativi derivanti dalla approfondita conoscenza dell'ambiente e della realtà locale, ha permesso di localizzare l'uomo a Roccazzo. Una volta organizzato un servizio di osservazione e pedinamento è stato arrestato stamattina. Condotto nella caserma di Via Sciascia al termine delle formalità di rito è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa. Qui resterà a disposizione del sostituto procuratore presso il Tribunale Ibleo, Ghetano Scollo, per i provvedimenti di competenza. Nuovi sbarchi di migranti sulle coste orientali della Sicilia, in particolare a Pozzallo, Auguste e Catania. In totale sono stati soccorsi 1135 profughi salvati in ben 10 operazioni, mentre è stato recuperato il cadavere di una donna. Altra giornata di super lavoro ieri per gli addetti ai soccorsi nel canale di Sicilia, ma è stata anche un'altra giornata drammatica per i quasi 1135 migranti salvati in 10 distinte operazioni. I sanitari infatti, dopo gli sbarchi a Pozzallo, Auguste e Catania, si sono dovuti prendere cura di una trentina di donne con ustioni in diverse parti del corpo. Molte di loro hanno infatti affrontato il viaggio sul gommone con le gambe a contatto col carburante. Una di loro aveva anche il 25% del corpo ustonato, per cui si è reso necessario il trasferimento al centro grande ustonati di Catania. A bordo del gommone c'era anche il cadavere di una donna recuperato in mare. A Pozzallo, inoltre, è stata fatta approdare a Rava Enterprise con a bordo 456 migranti o sub-sahariani recuperati in mare dalla guardia costiera. Allo stesso tempo la commissione parlamentare di inchiesta sui centri di accoglienza ha bocciato l'hot spot pozzallese. La visita ispettiva infatti avrebbe evidenziato carenze e criticità del centro quali infrastrutture inadeguate, sovraffollamento e permanenze troppo lunghe dei rifugiati, soprattutto dei minori non accompagnati. E intanto la polizia a conclusione di serrate indagini ha arrestato lo scafista accusato di aver condotto ieri il gommone con a bordo 129 migranti. Si tratta di Stevene Yang, 20 anni del Gambia. Con questo fermo salgono a 73 gli scafisti individuati nel 2016. Voltiamo pagina. Ieri a Scoglitti, sopra il luogo del sindaco Moscato, il primo cittadino ha verificato le condizioni della frazione disponendo immediati interventi di pulizia straordinaria. Ieri mattina il sindaco di Vittoria Moscato, accompagnato dagli assessori Cosentino Nicaste e dai dirigenti della Tecra, ha effettuato un sopralluogo di persona per verificare le condizioni della frazione riverasca e disporre quindi immediati interventi di pulizia straordinaria. Da oggi, ha dichiarato Moscato, abbiamo iniziato a lavorare per Scoglitti, ho constatato personalmente le condizioni della frazione. Ci sono in tre zone totalmente abbandonate a se stesse, per cui abbiamo disposto una massiccia pulizia straordinaria con le squadre della società che gestisce la raccolta rifiuti. La stagione estiva è appena iniziata, ha proseguito il sindaco, adesso è il momento di lavorare senza sosta per presentare ai residenti e ai turisti una scoglitta pulita e vivibile. I prossimi interventi prevedono la pulizia dei cassonetti del lungomare, attualmente ostruito da cumuli di sabbie, in modo così da restituire ai cittadini un litorale praticabile e fruibile. Inoltre, abbiamo iniziato a programmare la stagione estiva con un calendario ricco di iniziative, facendo quindi fronte alle limitate risorse, ma con l'ausilio però delle nostre eccellenze locali. Il primo cittadino ha poi rinnovato alle popolazioni e l'invita a segnalare al front office dell'ufficio manutenzione gli interventi più urgenti da effettuare. L'assessore al bilancio, Andrea Larosa, ieri a Palermo per incontrare l'assessore regionale Alessandro Baccei. Sul tappeto i contenuti di un progetto volto a favorire la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica per le utenze telefoniche. Neanche il tempo di insediarsi, già si parte per Palermo in missione. Il vice sindaco e assessore al bilancio, Andrea Larosa, ha infatti incontrato l'assessore regionale Alessandro Baccei, unitamente al presente alla commissione bilancio Lars Enzo Vinciullo. L'occasione è stata utile, ha dichiarato al termine lo stesso Larosa, per affrontare i contenuti di un progetto avviato a suo tempo dalla regione e volta a favorire la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica obiettivo consentire una connettività in banda larga e banda ultralarga a tutti gli utenti telefonici. Per questo motivo, e d'accordo col sindaco Muscato, ha evidenziato Larosa, è stato valutato di fornire all'assenza tutte le procedure previste per la realizzazione di interventi che saranno effettuati in particolare a scoglitti oltre che in altre parti la città di Vittoria. Sono state anche comunicate numerose prescrizioni all'impresa che materialmente effetterà i lavori per cercare di limitare al massimo i disagi che ovviamente ci saranno. Larosa ritiene però che sia una buona causa perché oggi, ha rilevato lo stesso assessore, l'annullamento del Digital Divide è una condizione necessaria per poter essere competitivi al massimo. Poi il neoassessore Ipparina ha ringraziato lo stesso Baccia e il presente Vinciullo per l'attenzione riservata al Comune di Vittoria con l'auspicio che possa essere dato il via ad una collaborazione istituzionale il più possibile proficua, allo scopo ovviamente di portare a casa risultati sempre più apprezzabili. E si è intanto riunito ieri il gruppo consigliere di sviluppo Ebleo. Abbiamo discusso delle priorità e delle modalità di appoggio a questa amministrazione di cui facciamo parte, ha dichiarato Andrea Larosa che oltre a essere consigliere è anche vice sindaco e con i consiglieri Gaetano Motta e Daniela Pino dice abbiamo parlato delle priorità su cui verterà il nostro impegno per il Consiglio Comunale. Stiamo avviando, ha dichiarato ancora, un nuovo percorso e speriamo che sia a Foriero di grandi risultati. Il Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Di Falco, ha firmato l'ultimo atto della passata amministrazione. Si tratta della convocazione del nuovo consiglio uscito dalle elezioni del 5 giugno scorso. Con la firma dell'ultimo atto amministrativo, l'ormai ex Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Di Falco ha chiuso stamane un decennio che lo stesso Di Falco definisce storico per la città, caratterizzato da interventi e momenti che hanno rivoluzionato la vita civile e culturale dei vittoriesi. Oggi si parte, afferma Di Falco, anche da una svolta storica per questa città, con l'avvento della destra al governo, ma con la totale assenza di partiti storici, fatta eccezione il PD, che però deve fare una forte e seria analisi degli errori politici e amministrativi commessi. Un principio però entrato in città, prosegue Di Falco, ed è quello che anche nella vittoria roccaforte della sinistra esisterà il sistema democratico dell'alternanza, principio così scontato in democrazia, che però nella nostra città non si era ancora verificato. Oggi è quindi invece una realtà e servirà da monito a chi sta amministrando e da stimolo a chi vorrà amministrare. Adesso questa responsabilità passa senza soluzione di continuità al nuovo Consiglio, fatto di giovani e di donne, morti alla loro prima esperienza. A loro, continua Di Falco, rivolgo gli auguri di buon lavoro e dico che se in Consiglio ci si va solo per alzare o abbassare la mano, avremo reso il peggiore servizio all'amministrazione alla città. Restano naturalmente le posizioni opposte, conclude Di Falco, che devono esserci senza sotterfugio e invingimenti, ma sui temi che riguardassero attacchi contro la nostra comunità, da qualsiasi parte essi arrivino, non sarà disposta a fare i calcoli di bottega. A Comiso c'è il quartiere San Leonardo nel dimenticatoio. La denuncia dei consiglieri comunali Dante di Travani e Maria Rita Schemberi, che chiedono all'amministrazione di intervenire per ridare dignità ad una delle zone più caratteristiche della città. È uno dei quartieri più caratteristici di Comiso, ma l'amministrazione comunale lo ha lasciato cadere nel dimenticatoio, così il consigliere di opposizione Dante di Travani e Maria Rita Schemberi con il riferimento al quartiere San Leonardo. In questi tre anni di amministrazione spataro, proseguono i due consiglieri, nessun intervento, nessun controllo, nessun sopralluogo è stato effettuato in zona. Evidentemente questo comune preferisce puntare, peraltro in modo maldestro, solo sugli interventi di facciata, senza badare alla valorizzazione dei quartieri più interessanti e caratteristici. Ai due capogruppo dell'opposizione risulta anche che più volte il residente abbiano denunciato lo stato di incuria e degrado nel quale verse il proprio quartiere, senza però ottenere in cambio nessuna risposta. Si notano soprattutto buche stradali ma irriparate, scarsa pulizia delle strade, perdite idriche e soprattutto zero controlli. È ovvio, rimarcano di Trapani e Schemberi, che una simile situazione rischia di esporre questi cittadini anche ad episodi di illegalità diffusa, che possono trovare terreno fertile nello stato di abbandono in cui versa la zona. Pertanto si torna a chiedere all'amministrazione comunale di svegliarsi dal torpore e di interessarsi alla città. I quartieri specie più antiche, come quello di San Leonardo, concludono i due consiglieri, non meritano una simile trascuratezza. A Ragusa i problemi insorti in queste ore riguardano in particolare una voragine incontrata a Tabuna e alcune arterie che hanno bisogno di essere pulite e rese più decorose. Da qualche tempo nel parcheggio di contada a Tabuna a Ragusa c'è l'asfalto che ha ceduto, forse per la presenza di una cavità sottostante. In pratica si è aperta una voragine nel terreno e adesso bisogna capire cosa si vuole fare del sito e quando intervenire. Se lo chiede la consigliera comunale Lisa Marino, la quale si tratta di una situazione che non può continuare a perpetuarsi a lungo anche perché la voragine si trova in una zona di transito e non ha certo un bel vedere né per i cittadini né per i turisti che vengono a visitare la città. Altro problema evidenziato in questo caso l'associazione Ragusa in movimento, il caso di via Giorgio Cintolo. Seppur realizzata da appena qualche mese, l'arteria avrebbe bisogno di essere ripulita e resa più decorosa. Si tratta, rilevano dall'associazione ragusana, di una strada di recente realizzazione e nei presi delle lottizzazioni edificate alle spalle dello stadio incontrate a Selvaggio. Quindi tutto ciò dovrebbe essere un punto di forza per la città. Invece, dopo aver effettuato un sopraluogo, ci si è resi conto che, oltre al materiale di risulta abbandonato sui cigli della strada, insiste anche la presenza di erbacce e sterpaglie che rendono tutto più problematico. Per Ragusa in movimento quindi basterebbe poco per garantire delle risposte che potrebbero dare soddisfazione ai cittadini e residenti, oltre a coloro che si trovano a transitare nella zona. Ci si avvia alla gran finale per l'edizione 2016 del Vittoria Jazz Festival. Nei giorni scorsi la scrittrice Giuseppina Torregrossa è stata insignita del titolo di ambasciatrice del vino e domani c'è la grande festa di chiusura. La scrittrice Giuseppina Torregrossa è stata insignita del titolo di ambasciatrice del vino ed in particolare del cerasuolo di Vittoria. Autrice del conto delle minne e del recentissimo Il figlio maschio, Torregrossa ha presentato il suo ultimo lavoro a Vittoria e a proposito del cerasuolo ha dichiarato, è un ottimo robusto vino che insieme agli altri vini siciliani e italiani, prodotto con grande rispetto per la qualità, rappresenta il simbolo della nostra passione. Quanto alle mie scelte personali non ho dubbi, il mio vino è il rosso, meglio ancora se è proprio il cerasuolo. La scrittrice insegnita quindi del titolo di ambasciatrice del vino ha condiviso il palco di Piazza Enriquez con il presidente dell'associazione Sicily Jets Music Luciano D'Amico, il presidente delle strade del vino Arianno Chipinti, il direttore artistico Francesco Cafiso e il neosindaco di Vittoria Giovanni Moscato. Sono orgoglioso e felice, dichiara il primo cittadino, di aver trovato in Giuseppina Torregrossa una testimonial d'eccezione del territorio vinicolo. La cerimonia ha ceduto poi il passo al concerto del Pablo held trio fit. Il trio, sfoggiando un look rigorosamente total black, ha scelto un jazz dalle sonorità nordiche, traghettando il Vittoria Jazz Festival verso la fine della sua quinta giornata. Ieri sera invece la chiesa di Sant'Antonio Abati ha ospitato il concerto di Francesco Cafiso, accompagnato dal piano di Maurio Stiavone. Alle 22 infine è la volta del trombettista David Pastor con il suo New Roots. Oggi, sabato, in serata esibizione della tanta amata Contour Band, che percorrerà la via Cavour fino a raggiungere Piazza Enriquez. Chiusura della serata con il Chris Quintet con Saturday Sounds. La giornata di chiusura del festival, domenica, si apre le 10.30 con la Contour Band, che suona sempre lungo la via principale della città, fino a Piazza Ricca. Alle 22 a gran finale con il sax alto e il flauto di Francesco Cafiso sulle musiche di 20 Cent per Note. Il direttore artistico è accompagnato alla trombe e al filocorno da David Pastor e Alessandro Presti, al trombone da Umberto Amesquit, al sax soprano e al calarinetto da Rino Cirinna, al sax baritone e al calarinetto basso da Sebastiano Ragusa, al piano da Mauro Schiavone, al basso da Pietro Chiangaglini e alla batteria da Adam Pasci. C'è la pubblicità, torniamo tra poco. Eventi Sicilia.tv Il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventi Sicilia.tv L'informazione più veloce e sempre aggiornata. E' il momento di rivedere insieme i fatti in primo piano. Cinque pastori sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Vittoria perché sorpresi mentre facevano pascolare abusivamente circa 500 capi all'interno di un appezzamento di terreno privato. Si tratta di due vittoriesi con precedenti penali e di tre romeni incensurati. In particolare il gruppo faceva pascolare gli animali, ovini e bovini, in un terreno coltivato da grumi e di proprietà di un'azienda agricola di Contrada Castelluccio. Quattro medici dell'ospedale Maria Paterno Arezzo di Ragusa indagati per omicidio colposo. La vicenda si riferisce alla morte di un uomo di 65 anni, Luigi Annino, dimesso dopo un intervento. Il giorno dopo l'uomo è stato colto da un infarto. La procura, dopo la denuncia dei familiari, ha disposto all'autopsia e sui medici grava l'accusa di omicidio colposo. Operato a Catania, l'uomo era stato trasferito a Ragusa e da qui dimesso. Nuovi sbarchi di migranti sulle coste orientali della Sicilia, in particolare a Pozzalla, Auguste e Catania. In totale sono stati soccorsi 1135 profughi salvati in ben 10 diverse operazioni di soccorso. Circa 30 le donne che hanno riportato ustioni in diverse parti del corpo, dato che molte hanno affrontato il viaggio a stretto contatto con il carburante. Una è stata trasferita a Catania e ha recuperato in mare anche il cadavere di una donna. Sopralluogo a scoglitti ieri per il sindaco di Vittoria Giovanni Moscato, il primo cittadino ha verificato le condizioni della frazione disponendo immediati interventi di pulizia straordinaria. Accompagnato dagli assessori Cosentino e Anni Castro e dagli dirigenti della Tecra, Moscato ha dichiarato che la stagione estiva è appena iniziata. Adesso è il momento di lavorare senza sosta per presentare a tutti una scoglitti pulita e vivibile. Il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Di Falco ha firmato oggi l'ultimo atto della passata amministrazione e si tratta della convocazione del nuovo Consiglio votato il 5 giugno scorso. Di Falco ha quindi chiuso un decennio che lo stesso ha definito storico per la città caratterizzato da interventi e momenti che hanno rivoluzionato la vita civile e culturale dei cittadini. Ai giovani e alle neoelette di Falco ha augurato buon lavoro. Per questa edizione è tutto, grazie per l'attenzione e buon fine settimana. Grazie per l'attenzione e buon fine settimana.